Servono punti in un campionato lungo e difficile come la Serie B, purtroppo abbiamo perso per una disattenzione e poi perché alla fine siamo crollati negli ultimi 20 minuti. A fine primo tempo ho commentato bene, ma non malissimo, adesso è male, ma non malissimo. Male perché abbiamo perso, i tifosi del Brescia stanno festeggiando come se avessero vinto il campionato. C'è comunque la voglia di dire nuovo anno, stessa storia, ma non è così, perché comunque perdoniamo tanto i giocatori e la prima di campionato, c'è tanto sulla quale i giocatori e l'allenatore dovranno lavorare. Usciamo da questa partita con un'unica sicurezza che è quella tra i pali. Neplange e Gomis sicuramente ci aiuteranno tanto durante questa stagione e speriamo che Gomis si riprenda presto. Dispiace dirlo, ma è una sconfitta meritata, almeno secondo il mio punto di vista, quella di stasera. Però comunque è pur sempre la prima giornata di campionato, non mi aspettavo davvero i fuochi d'artificio da parte della squadra di Dionisi e quindi comunque aspettiamo il prossimo impegno. Questa purtroppo è andata così, però considerato che è la prima, considerato il caldo e la forma comunque che non è ancora al top, ci può stare, eravamo pure in trasferta. È stata la chiusura di una partita che non ci aspettavamo finisse così, per come è iniziata, per come il Palermo ha tenuto il campo per la prima ora di gioco, ma fisicamente siamo stati meno resistenti, secondo me questa è la prima cosa che ha detto la partita e di questa prima giornata di campionato, che il Palermo non ne ha avuto abbastanza per giocare per tutti i 90 minuti e quei 30 minuti finali hanno fatto la differenza con un gol che in un modo in un altro si sentiva che poteva arrivare da parte del Brescia proprio perché ha insistito molto di più del Palermo in maniera molto più pressante. Ed eccoci qui che ci troviamo a parlare della prima sconfitta, ci sta, via il dente, via il dolore, iniziamo con un percorso che adesso sarà in salita.